L'arte solitamente rimanda tantissimi messaggi e sostiene tantissime cause. In questo caso si uniscono due, si fondano due arti, l'arte della fotografia e l'arte del body painting, vuol dire la pittura nel corpo. Come lo faremo? Lo faremo in maniera molto elegante ma precisa e mirata. Abbiamo una testimonial, una testimonial molto importante, che è una modella internazionale e giornalista ucraina che si chiama Andriana Mariana Ula. Infatti la prima ospite arriverà sabato sera da Milano. Ci racconterà anche una bellissima testimonianza. Sarà tutta una fusione tra musica con Lady Perbacco e Canto, con le poesie di Gastone Capelloni interpretate da due lettrici d'eccezione, chiamiamole così, Litz Marsigli e Eleonora Rubecchi Mensitieri. e le persone anche che non si avvicinano o non sono vicine all'arte riusciranno a capire quello che noi vogliamo interpretare. Quindi si parte da questa performance, poi andremo a fare dei bellissimi scatti nel parco del San Bartolo presso la fondazione Oasi Oikos, del presidente e del suo fondatore Claudio Balestri. E lì abbiamo individuato due set fotografici. Perché? Perché uno sarà realizzato in un rudere, l'altro sarà realizzato nel belvedere, proprio per identificare in un qualche modo le brutture della guerra con queste rovine e l'altro invece è tutto ciò che è speranza e luce e pace, tutto quello che noi vogliamo in pratica trasmettere. Da questi due scatti verranno selezionati, questi scatti artistici con la modella. Non vi svelo quello che sarà comunque il set, perché è veramente particolare, è il disegno che io realizzerò sulla testimonial. Da questi scatti verranno scelti due scatti che verranno stampati su delle magliette. Le magliette, il ricavato della venti delle magliette attraverso online e attraverso delle mosse fotografiche che stiamo già mettendo in atto, non solo qua nel nostro territorio, ma anche fuori perché ci stanno richiedendo, andranno, quindi il ricavato delle vendite, andrà ad Unsi, Unione Nazionale Sotto Ufficiali Italiani, sezione di Pesaro, che hanno già all'attivo dei loro progetti sul territorio, quindi come il sostegno con i beni di prima necessità nei due punti di raccolta di Urbino e di Pesaro, quindi andranno a sostenere le famiglie che hanno ospitato questi profughi ucraini. Hanno, come ho detto prima, visto che sono già attivi, un paio di settimane fa, rischiando la pelle, hanno già salvato 104 persone. Questo è doveroso dirlo, perché si sono attivati con due pullman e quindi per noi è veramente, non lo so, un onore, un orgoglio poter collaborare con tutti.